A tutti gli aerei, c'è un grosso incendio a nord di Falcon Ridge. Forza ragazzi! Facciamo il pieno! Andiamo. Vediamo che sai fare. Loro arrivano. Eccolo laggiù, ragazzi! Quando gli altri scappano. È stato fantastico! Avventiamo il livello di difficoltà? La squadra. Caronimo! L'orgoglio. Vieni duro! Gli aerei. Rengiti forte! Ehi, dolcezza, devi essere appena caduta da un B-17 perché sei una bomba. Ci provano sempre. Centro! Gli aerei. Gli aerei. Ehi, dolcezza. Gli aerei. Fai.